Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti, eccoci qua per il post partita tra Pordenone e Venezia vinto per 2 a 0, tre punti veramente importanti che ci portano in classifica nella zona playoff, anche se gli altri comunque hanno delle partite ancora da recuperare ci sono tante, troppe secondo me partite da recuperare, vedremo comunque per il momento siamo dentro la zona playoff, settimo posto a 27 punti per quanto riguarda la partita ragazzi ci è andata veramente molto bene devo fare i complimenti sia al Venezia sia al Pordenone, a entrambe le squadre oggi vanno fatti i complimenti, perché? Perché il Venezia ragazzi, devo dire, allora grandissima squadra, una bella squadra, gioca molto bene, molto compatta, pericolosissima poi nel secondo tempo ragazzi, diciamo la verità, nel secondo tempo il Pordenone fino al 2 a 0, dopo ne parleremo come sono arrivati questi gol, cioè fino al 2 a 0 il Pordenone non c'era, non riusciva a prendere la palla, era chiuso dietro, soffriva il Venezia ci ha provato in tutti i modi possibili, erano tutti all'arrembaggio, proprio tutti davanti ci hanno provato in tutti i modi e veramente poi ragazzi è successo il 2 a 0 che adesso andremo a parlarne però ragazzi il Venezia sia sullo 0 a 0 giocava molto bene poi è successo il fatto dell'1 a 0, adesso andremo a parlare dei gol perché ragazzi c'è da parlare qua c'è da parlare dei portieri oggi, sia del portiere del Pordenone che quello del Venezia l'1 a 0, dopo l'1 a 0 comunque abbiamo continuato a giocare nel secondo tempo non c'è stata storia perché Venezia era sempre fissa nella nostra metà campo soprattutto nella tre quarti buttavano palloni dentro l'aria forte, ogni volta che c'era un pallone dentro l'aria era dentro abbiamo visto il nostro Sebastiano Esposito che è andato in prestito al Venezia dopo che la spalla non ha praticamente quasi mai giocato, comunque non giocava quasi mai oggi è stato messo dentro subito, ha fatto vedere delle buone cose, buoni dribbling ha provato una rovesciata, insomma anche lui ci ha provato in qualsiasi modo dopo è successo il 2 a 0, il Venezia dal 2 a 0 si ha provato ancora però capite che magari psicologicamente dopo che tu dici oh abbiamo fatto una grande partita, ci stiamo provando stiamo facendo sempre a metà campo loro, siamo sempre nell'aria qua a destra e a sinistra invece di pareggiare noi vanno sul 2 a 0 loro capisci che magari mentalmente puoi crollare un attimo però comunque anche sotto il 2 a 0 ci hanno provato anche se lasciavano molto più a desiderare in zona difensiva perché abbiamo avuto altri due tiri, uno con Butic dove il portiere finalmente ha parato un pallone perché devo fare i complimenti alla mia squadra? perché voi dite ma complimenti di che cosa? Nel secondo tempo non avete fatto niente ma c'è da fare i complimenti perché abbiamo dimostrato di saper soffrire abbiamo dimostrato di essere comunque una squadra che finalmente intanto non abbiamo preso un gol perché ragazzi vi ricordate che io vi dicevo sempre che in difesa quest'anno abbiamo poca concentrazione facciamo delle cappellate, regaliamo i gol ecco finalmente, finalmente oggi ho visto tanta concentrazione ed è quello che volevo vedere quindi complimenti a Pordenone perché pur soffrendo tanto perché abbiamo sofferto tantissimo soprattutto tra il cinquantesimo e il settantesimo veramente lì è stato proprio soffrire più che si foteva perché c'era sempre il Venezia in attacco col pallone buttato in mezzo qua è la destra e sinistra quindi complimenti al Pordenone che ha saputo soffrire è stata concentrata in difesa ed è stata brava e opportunista a prendere l'opportunità opportunista a crederci perché ci abbiamo creduto perché se noi non ci credavamo nonostante le papere del portiere che adesso andiamo a parlare non ci sarebbero stati i gol bravi e cinici a approfittare dei loro errori quindi bravi ai giocatori di Venezia grande squadra, grande partita, meritavate sicuramente qualcosa in più e bravi però anche alla mia squadra perché ha saputo soffrire e ad approfittare degli errori degli altri parliamo dei portieri perché oltre ai giocatori in campo secondo me se oggi abbiamo vinto 2-0 e grazie ai portieri portieri sia del Pordenone che del Venezia perché per me migliore in campo Perisan ragazzi Perisan partita io l'ho detto già più volte all'inizio faceva il suo compituccio faceva le sue paratine ma partita dopo partita questo portiere sta veramente crescendo crescendo fa delle parate eccezionali oggi si è superato ho fatto dei miracoli incredibili ragazzi che vi devo dire oggi a Perisan cioè se oggi abbiamo preso 0 gol oltre a bravi e concentrati in difesa come ho detto prima ma c'è da ringraziare il portiere Perisan perché ha parato di tutto di tutto ogni tiro l'ha parato ragazzi c'è stato su calcio d'angolo spizzata in mezzo all'aria forte arriva buttandosi prende col piede la butta in porta Perisan arriva col piattone e riesce a pararla grande parato oppure un'altra occasione è stata quando non mi ricordo che aveva tirato del Venezia mi pare di testa anche non mi ricordo sul primo palo Perisan stava andando dalla parte opposta lo si vede dal replay che saltella dalla parte sinistra la palla a destra con un colpo di reni prende e para la palla cioè ragazzi è una cosa incredibile poi comunque sicurezza dietro da sicurezza quando c'è da uscire a prendere la palla con le mani in aria esce salta e prende la palla ha fatto altre due parate comunque non come queste miracoli però ha fatto altre un paio di parate cioè ragazzi oggi Perisan fantastico cosa che non si può dire per il loro portiere ragazzi il loro portiere cioè Lezzerini è una cosa incredibile cioè se il Venezia oggi ha perso la partita è colpa del portiere perché ragazzi se il portiere non faceva due papere oggi dubito che il porterone segnava un gol se oggi il portiere del Venezia Lezzerini non faceva quelle cavolate oggi il porterone sarebbe uscito penso con zero gol zero gol e forse il Venezia avrebbe pure vinto perché magari noi ok Perisan ne stava paratute eravamo concentrati in difesa ma anche perché stavamo a vincere stavamo a vincere c'erano tre punti in palio magari sullo zero a zero anche noi magari ci scoprivamo di più ok lasciavamo più spazi per provare a segnare e voi magari alla fine riuscivate a segnarci non si sa cosa poteva succedere se oggi secondo me siamo usciti con una vittoria grazie alla nostra difesa al nostro portiere soprattutto perché qua voglio parlare dei portieri grazie al nostro portiere ma anche grazie al portiere ragazzi ma veramente ma come si fa allora primo gol difensore la passa al portiere il portiere va dalla parte opposta s'allunga il pallone bravissimo Dio che comunque sapete quando l'attaccante va in pressione Dio però non va solo per dargli fastidio va proprio per cercare di prendergli la palla ci crede bravissimo il portiere s'allunga la palla Dio arriva anticipa il portiere che poi prende Dio calcio di rigore nettissimo che poi Dio comunque trasforma alla perfezione quindi già questo è un rigore regalato del portiere attenzione non è finita qui nel momento in cui il Venezia comunque sta dominando è sempre nella nostra metà campo e tutto quanto cosa succede? palla sempre al portiere perché ragazzi la palla era sua va per rinviare sbaglia il rinvio il pallone arriva al nostro giocatore che non mi ricordo chi era poco fuori dell'area di rigore la passa ciurria dentro l'area di rigore sulla destra va uno contro uno tiro il portiere poi fa un'altra mezza papera perché ragazzi come l'ha parata io pensavo non so cosa era successo ho detto come cazzo ha fatto a non pararla allora una 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 papera perché hai sbagliato il rinvio e ce l'hai regalata a noi sulla tre quarti con la difesa che comunque era abbastanza scoperta infatti siamo riusciti con un passaggio ad andare dentro l'area e andare con l'uno contro l'uno che poi è arrivato il tiro e sul tiro hai fatto un'altra papera poi mi hanno detto abbiamo visto il replay sono detto eh sì c'è stata una leggera deviazione va bene va bene c'è stata una deviazione però abbiamo visto come il pallone a parte che la deviazione se c'è stata c'era era proprio di un niente però ragazzi il pallone è andato comunque dove si è buttato il portiere e gli ha rimbalzato davanti ok con la deviazione magari lui l'aveva pure letta bene il portiere magari magari con quella deviazione invece di essere un centimetro più a destra c'era un centimetro più a sinistra ma il pallone comunque è arrivato dove si è buttato non è che il pallone è andato dall'altra parte dove non poteva fare niente e vabbè poteva fare un qualcosa di più c'è stata una piccola deviazione ok ma cazzo ma rivedetevi bene il replay cioè il pallone gli arriva comunque addosso e la prende malissimo e gli va sopra boh cioè è una cosa incredibile contentissimo eh per l'amor di dio meglio a loro che a noi ovviamente cioè meglio così ci prendiamo i tre punti me li tengo stretti il Venezia ha fatto una grande partita Pordenone è bravo a soffrire e due gol regalati dal portiere e va bene così per oggi per questa partita va bene così cioè è veramente una cosa incredibile comunque era Zammarini che le ha passate a ciurria cioè quindi ringraziamo Lezzerini per averci regalati questi due gol soprattutto soprattutto no tutte e due perché soprattutto il primo anche il secondo ha sbagliato il rinvio e poi ha parata del merda cioè parliamoci chiaramente il Venezia meritava molto di più oggi vabbè ragazzi io più troppo non so cos'altro dire perché il Venezia più di dire che il Venezia ha fatto tanto il nostro portiere le ha parate tutte il nostro portiere ha fatto due cappellate e ha movimentato la partita questo è proprio l'assunto della partita in tre secondi detto questo adesso siamo ripeto al settimo posto la prossima partita sarà sabato alle due giochiamo fuori casa contro il Cosenza Cosenza che oggi ha pareggiato due a due contro il Monza fuori casa ho visto i gol non ho visto la partita ovviamente perché guardavo il Pordenone ho visto i gol però ho visto che comunque il Monza si è fatto male da solo con un autogol è un passaggio del difensore sbagliato anzi non so se era proprio lo stesso paletta perché può essere la stessa la stessa situazione di qua qua grazie al portiere loro lì grazie ai difensori che hanno fatto lo schifo assoluto comunque ragazzi io vi saluto ci vediamo alla prossima speriamo di portarci a casa almeno un punto perché Cosenza comunque è una buona squadra gioca in casa quindi non si sa mai speriamo comunque di dare continuità abbiamo preso tre punti fondamentali oggi tre punti fondamentali contro la Serenitana insomma stiamo stiamo viaggiando sono sempre tre punti importanti se andiamo contro il Cosenza speriamo bene sempre forza Pordenone e noi ci vediamo al prossimo video e alla prossima live ciao a tutti ragazzi grazie a tutti